Dobbiamo cambiare ritmo nella seconda parte della partita, abbiamo inseguito, sono stati bravi, è una squadra che se lascia giocare gioca molto bene, ci ha rallentato, avevamo bisogno di cambiare inerzia, di alzare l'intensità difensiva per poter fare anche contropiede. Abbiamo iniziato bene, abbiamo trovato le nostre cose, le nostre misure, giocavamo anche bene, ma non bastava contro questo Napoli, quindi nel secondo tempo sono contento che siamo riusciti ad alzare l'intensità, a giocare una partita di spessore e a iniziare a controllarla un po' di più. Sono contento, i ragazzi sono stati veramente bravi.